Continua il passaggio di Telemonte Cronio sul canale 80 in HD del digitale terrestre. Oggi è la volta delle aree che ricevono il segnale da Cammarata. Domani il nostro canale sarà visibile anche a chi riceve il segnale da Santa Margherita. Altra truffa legata al reddito di cittadinanza in provincia di Agrigento e precisamente a San Biagio Platani a beneficiare del sussidio un uomo di 51 anni che si trovava in carcere, coinvolto nell'operazione anche un trentenne di Castel Termini. Politica e il Museo Diffuso dei Cinque Sensi invita i tre candidati a sindaco di Sciacca ad un incontro pubblico per parlare di turismo. Intanto è stato stabilito che lo scrutinio per le amministrative si farà lunedì 13 a partire dalle ore 14. Covid, due decessi nelle ultime 24 ore in provincia di Agrigento, Alicata e Real Monte. Intanto si va verso la chiusura del Covid Hospital nell'ottica di un ritorno alla normale assistenza sanitaria da attuare entro l'estate. Alta l'incidenza dei casi di lesmagnosi nel territorio agrigentino inizia il periodo di maggiore diffusione della malattia e si pone l'esigenza di potenziare le attività di controllo e sorveglianza e le azioni di prevenzione. Quasi 900 mila euro per i servizi di assistenza ad anziani e famiglie nei comuni che fanno parte del distretto sociosanitario di Sciacca, servizi che saranno attivati a partire da settembre, previsto il potenziamento degli asili nido. Un cordiale benvenuto, ben trovati su Telemonte Cronio per un nuovo appuntamento con l'informazione. Continua il passaggio di Telemonte Cronio sul canale 80 in HD del digitale terrestre. Oggi è la volta delle aree che ricevono il segnale da cammarata, mentre domani il nostro canale sarà visibile anche a chi ci riceve da Santa Margherita di Belice. L'invito a tutti voi nel caso in cui il vostro apparecchio non lo abbia già fatto automaticamente è a risintonizzare e non solo nella giornata odierna, ma anche nel resto della settimana, televisori e decoder. La copertura complessiva del nuovo bacino di utenza che ricordiamo riguarderà sei province avverrà infatti gradualmente. Ricordiamo che con il nuovo digitale terrestre si conclude l'esperienza del nostro secondo marchio, quello che trovavate sul canale 645. Vi invitiamo a informare amici, parenti e conoscenti di questa novità, soprattutto ad aiutare le persone più anziane o che non hanno dimestichezza con la tecnologia. Ringraziamo tutti voi telespettatori che ci sosterrete ad affrontare questa nuova sfida. Cronaca, altra truffa legata al reddito di cittadinanza in provincia di Agrigento a beneficiare del sussidio era un 51enne che si trovava in carcere. Il servizio. In un anno aveva indebitamente percepito quasi 10.000 euro con il reddito di cittadinanza pur essendo recluso in carcere. Altra truffa ai danni dello Stato in provincia di Agrigento è stata scoperta dai carabinieri nell'ambito dei controlli svolti periodicamente per verificare la corrispondenza e la sussistenza dei requisiti dichiarati dai beneficiari del reddito di cittadinanza. I militari della stazione di San Biagio Platani hanno denunciato due persone. Si tratta di un 51enne di San Biagio Platani che all'atto della presentazione della domanda era sottoposto a reclusione presso la casa circondariale Petrusa di Agrigento. Circostanza che, stando alla normativa vigente, sarebbe in contrasto con il diritto a percepire il reddito di cittadinanza. L'operazione dei carabinieri ha coinvolto anche un trentenne di Castel Termini responsabile di un patronato che ha redatto e trasmesso all'ufficio IMS di Agrigento la richiesta finalizzata ad ottenere il sussidio posto che il 51enne era chiaramente impossibilitato a presentarla visto che si trovava in carcere. I reati contestati sono quelli di falsità materiale, di truffa aggravata in concorso e danni dello Stato. Gli accertamenti hanno permesso di quantificare che la somma che sarebbe stata indebitamente percepita dal 51enne di San Biagio Platani nel periodo che va da gennaio 2020 a giugno 2021 è di oltre 9.500 euro. E' soltanto l'ultimo dei casi scoperti. Pochi giorni fa 389 persone sono state denunciate in Sicilia accusate di avere percepito il sussidio con dichiarazioni false e senza averne diritto. Tra questi la metavevano precedenti anche per mafia. Non a caso le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli alla ricerca dei furbetti del reddito di cittadinanza. Nuovi atti intimidatori in provincia di Agrigento. Una busta contenente minacce è stata rinvenuta nel cancello di ingresso della casa di campagna di un funzionario del consorzio di bonifica Agrigento 3. Si tratta di un riberese che presta servizio in un comune vicino. E' stato l'uomo a chiedere l'intervento dei carabinieri della tenenza di Ribera che hanno sequestrato la lettera contenente insulti e minacce e avviato le indagini coordinate dalla procura della Repubblica di Sciacca. Intimidazione che sembra collegata al suo ruolo all'interno del consorzio di bonifica. In passato analoghi episodi avevano interessato altri dipendenti e nello scorso mese di luglio una lettera con minacce di morte era stata recapitata direttamente alla sede del consorzio di bonifica di Ribera. I carabinieri della stazione di Erice e Trapani hanno arrestato un 44enne già gravato da precedenti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari lo hanno sorpreso in un'abitazione durante la compravendita di una dose di droga tra il 44enne e un assuntore abituale. Durante il controllo sono stati rinvenuti 73 grammi di hashish, 18 grammi di cocaina, 33 grammi di cristalli di crack, una sorta di libro mastro con cifre e nomi, un bilancino di precisione e la somma contante di 75 euro. L'uomo avrebbe dunque adibito l'immobile non di sua proprietà, vero e proprio bazzardi, sostanze stupefacenti. Il locale era anche provvisto di ben 5 telecamere a circuito chiuso. Alla luce degli elementi raccolti, i carabinieri hanno arrestato l'uomo e su disposizione del sostituto procuratore di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani lo hanno accompagnato alla casa circondariale di Trapani. Marsala, a seguito di un'attività di controllo del territorio effettuata in centro storico dai carabinieri della locale Compagnia e dalla Compagnia di Intervento Operativo del XII Regimento Sicilia, sono state denunciate 5 persone. Due soggetti di 39 e 22 anni sono stati sorpresi con in tasca dei coltelli a serramanico di circa 15 centimetri. Un uomo di 55 anni, sottoposto dalla misura restrittiva degli arresti domiciliari, è stato fermato ad un posto di blocco alla guida di un'autovettura. Un altro ragazzo, appena maggiorenne, è stato deferito all'autorità giudiziaria poiché è positivo all'uso di sostanze stupefacenti alcoliche mentre alla guida della propria auto. Infine, un mentenne marsalese è stato sorpreso ad asportare cavi elettrici dalla rete pubblica e in possesso di un coltello di genere vietato e per questo è stato denunciato. Siamo alla politica. Inizia ad entrare nel vivo la campagna elettorale dei tre candidati a sindaco della città di Sciacca. Il museo diffuso dei Cinque Sensi ha invitato Messina a termine e mangia a cavallo ad un incontro pubblico per parlare di turismo. Intanto, il Consiglio dei Ministri ieri sera ha definito le modalità di svolgimento dell'Election Day del 12 giugno prossimo e dello scrutinio. Si partirà dallo spoglio delle schede per il referendum a chiusura dei seggi elettorali. L'indomani alle 14 inizierà lo scrutinio per le amministrative. Vediamo. Coinvolgimento e partecipazione sono le due parole già ampiamente utilizzate da tutti e tre i candidati sindaco della città di Sciacca per le elezioni in programma il 12 giugno prossimo. Ignazio Messina ha già da tempo puntato sugli Sciacca Lab tematici. Matteo Mangiocavallo ha parlato di comunità attiva. Fabio Termine di coinvolgimento dei comitati di quartiere. Non è la prima campagna elettorale in cui sentiamo parlare di amministrazione condivisa, di ruolo attivo dei cittadini e di porte aperte alle stanze provenienti dalla comunità. Probabilmente è il momento di concretizzare poi questa volontà nei cinque anni di amministrazione. Con la presentazione ufficiale lo scorso fine settimana delle candidature di Matteo Mangiocavallo e Fabio Termine la campagna elettorale non è più e solo un impegno di Ignazio Messina e non a caso arrivano le prime richieste di confronto. Il museo diffuso dei cinque esenzi ha oggi invitato i tre candidati a sindaco di Sciacca ad un incontro pubblico alla presenza degli operatori turistici per un confronto sulla centralità del turismo nell'azione della prossima amministrazione cittadina. Se lo vorranno viene specificato anche al fine di sottoscrivere un impegno per l'eventuale crescita del brand Sciacca Città dei Cinque Sensi già noto nel panorama nazionale e internazionale. Probabilmente è solo la prima delle tante richieste di confronto che arriveranno per i candidati sindaco della città di Sciacca e che faranno entrare nel vivo la campagna elettorale che al momento vede i loro sostenitori fondamentalmente impegnati nella predisposizione delle liste dei candidati al Consiglio Comunale. Per la presentazione c'è tempo fino al 18 maggio ultimo giorno in cui forze civiche e politiche potranno depositare le liste ma anche per la presentazione delle candidature a sindaco. Giusto ieri sera il Consiglio dei Ministri ha definito le modalità di svolgimento del voto e dello scrutinio per i referendum e le amministrative. Si vota solo domenica 12 giugno dalle ore 7 alle 23 con eventuale turno di ballottaggio per i comuni previsto per il 26 giugno. Domenica 12 giugno alla chiusura dei seggi elettorali alle 23 si procederà allo scrutinio delle schede votate per i 5 referendum. Poi si chiuderà tutto e soltanto l'indomani, ossia dalle ore 14 del 13 giugno si procederà allo scrutinio per l'elezione dei sindaci e dei consiglieri comunali. Il provvedimento del Consiglio dei Ministri individua anche apposite misure di prevenzione del contagio per garantire lo svolgimento in sicurezza del procedimento elettorale e della raccolta del voto. In particolare per gli elettori positivi al Covid sottoposti a trattamento ospedaliero o domiciliare e per tutti coloro che si trovano in condizione di isolamento si prevedono modalità operative di sicurezza che consentano anche a loro però di poter prendere parte attiva alle consultazioni. Covid, due decessi in provincia di Agrigento, Allicata e Arrealmonte vengono oggi comunicati nel bollettino emanato dall'ASP ma del punto dei contagi, delle guarigioni e della situazione negli ospedali parliamo in questo servizio. Due decessi in provincia di Agrigento nelle ultime 24 ore secondo quanto emerge dal report diffuso questa mattina dall'azienda sanitaria provinciale riguardano i comuni di Licata, dove adesso le vittime del Covid sono 40 e Arrealmonte, che conta 5 decessi in tutto il periodo della pandemia. 133 i nuovi contagi a fronte di 520 tamponi processati il giorno precedente. In tutta la provincia sono state certificate 202 guarigioni. Adesso gli attuali positivi sono 8.782 e di questi 43 sono ricoverati in ospedale. Al San Giovanni di Dio di Agrigento scendono da 24 a 22 i posti letto occupati, tutti in degenza ordinaria. Al Fratelli Parlapiano di Ribera si registra un nuovo accesso nella medicina Covid, dove adesso sono 15 posti letto occupati e a un nuovo accesso anche in terapia intensiva, dove sono ricoverate 5 persone contagiate. A Sciacca nelle ultime 24 ore si sono registrate 21 guarigioni e scende a 936 il numero degli attuali positivi. Cala il dato dei contagiati anche a Ribera, dove adesso sono 232. Casino aumento a Menfi, dove sono 281, nonostante alcune guarigioni. Stabile la situazione ad Agrigento, l'unico centro con oltre 1000 contagi. Chiudere i Covid Hospital per realizzare all'interno dei reparti ospedalieri appositi posti letto riservati ai pazienti positivi e il piano al quale sta lavorando l'assessorato regionale alla sanità in vista dell'estate si va verso un ritorno alla normalità anche nell'assistenza sanitaria. Vediamo. Il virus circola, ma nella maggior parte dei casi non genera ospedalizzazioni e lo dimostra il trend delle ultime settimane. In Sicilia, nonostante sul piano dei contagi si siano visti gli effetti della Pasqua, si assiste ad un graduale calo dei ricoveri. E allora si può iniziare a programmare la chiusura degli ospedali Covid realizzati nell'isola. È il caso del Fratelli Parlapiano di Ribera, struttura di riferimento per i soggetti positivi che necessitano di ricovero. Seppure prima probabilmente si procederà alla riconversione dei reparti finora impegnati nell'emergenza Covid per ripristinarne le originarie funzioni. È il caso della medicina al San Giovanni di Dio di Agrigento. Entro l'estate si cambierà la strategia di assistenza ai pazienti contagiati anche perché capita sempre più spesso, soprattutto agli anziani, che arrivino in ospedale per altre anche gravi patologie, risultino positivi al test e vengono dirottati negli appositi reparti o ospedali Covid. Il piano al quale l'assessorato regionale alla salute sta lavorando è quello di prevedere percorsi separati per i pazienti positivi a seconda però delle loro patologie e non della loro positività al virus. Per i soggetti contagiati che hanno problemi di natura respiratoria e polmonare dovrebbero essere previsti appositi reparti ma per gli asintomatici si cambierà totalmente l'approccio. Non saranno più esclusivamente considerati i pazienti Covid ma ricoverati in base alla patologia o alla necessità di assistenza sanitaria. Tutto ciò comporterà che in tutti gli ospedali e in tutti i reparti si prevedano delle stanze da destinare a chi deve ad esempio effettuare un intervento chirurgico ed è contestualmente positivo al Covid. In tal senso ci sarà da riorganizzare l'attività di tutti gli ospedali dell'isola con l'obiettivo di arrivare all'estate con la piena operatività di tutte le strutture anche quelle finora esclusivamente dedicate al Covid. Un piano per arrivare dopo oltre due anni ad un ritorno alla normalità anche nell'assistenza sanitaria e tornare a garantire il diritto alla salute a 360 gradi. Si avvia immediatamente la campagna in rigua per evitare ulteriori danni agli agricoltori dopo la denuncia delle organizzazioni professionali agricole di Ribera sul ritardo da parte del consorzio di bonifica che non ha ancora stabilito quando e a che prezzo sarà garantita l'acqua ai produttori. Sulla vicenda oggi interviene la politica. La Federazione Provinciale del Partito Democratico chiama in causa il governo regionale evidenziando come gli agricoltori siano già deprese con l'aumento vertiginoso dei costi di produzione, dei costi del carburante, dei concimi e non possano subire anche il danno di non poter ancora programmare la campagna in rigua. Il grido di allarme delle organizzazioni di categoria viene anche ripreso dal Segretario Provinciale di Azione di Carlo Calenda che evidenzia come in una provincia con una economia prettamente agricola non sia concepibile che primi di maggio non sia stata ancora pianificata la distribuzione idrica. Agricoltori evidenzia anche il Partito di Calenda che non sanno peraltro a che prezzo sarà loro consentito di irrigare i campi. Il governo musumeci continua ad essere inadempiente nei confronti di centinaia di aziende che hanno realizzato opere pubbliche. L'allarme del Lancia, Associazione Nazionale Costruttori Edili, il parlamentare regionale Michele Catanzaro si fa portavoce delle richieste degli imprenditori agrigentini provando a sollecitare il governo regionale a derogare le somme dovute. Ancia Agrigento intende inoltre trasferire gli atti alla Corte dei Conti affinché si possano accertare le responsabilità personali e non siano ancora una volta le casse pubbliche a pagare per gli errori dei singoli. Alta l'incidenza dei casi di lesmaniosi sul territorio agrigentino occorre potenziare le attività di sorveglianza e controllo e le strategie per la prevenzione. Di questo si è parlato stamattina durante un evento formativo alla Sala Pirano dell'ospedale di Sciacca promosso dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia. Sentiamo. Alta sul territorio agrigentino l'incidenza dei casi di lesmaniosi sia animale sia umana. La malattia infettiva è contagiosa causata dal parassita lesmania infantum trasmesso dalla puntura di piccoli insetti che sono generalmente più attivi da maggio a ottobre. Le zone litorane del centro e del sud Italia sono non a caso le aree a rischio maggiore ma negli ultimi anni si è registrato un aumento dell'area di diffusione della malattia ora presente con nuovi focolai anche in molte aree del nord dovuto certamente alle variazioni climatiche abbinate ad una maggiore circolazione di persone e animali. Occorre potenziare le attività di sorveglianza e controllo nonché le strategie di prevenzione. Oggi l'argomento è stato al centro di un evento formativo che si è svolto nella Sala Piraino dell'ospedale Giovanni Paolo II. La lesmania è una di quelle malattie endemiche nel territorio siciliano ma non solo perché si sta espandendo per effetto dei cambiamenti climatici insomma in tutto il territorio nazionale e anche oltre. È una di quelle malattie di cui si parla poco ma che affronteremo invece negli anni a seguire perché sempre più la connessione tramite il vettore che è un flebotomo e un insetto in grado di condizionare il passaggio della malattia dal cane o dai serbatoi animali all'uomo diventerà sempre più significativo nei nostri territori e quindi dovremo affrontarla con quell'ottica oggi moderna di One Health di collaborazione tra il mondo veterinario e il mondo umano. L'incidenza è abbastanza elevata soprattutto e per fortuna per quanto riguarda la lesmaniosi cutanea che determina implicazioni solo a livello epidermico senza grossa sintomatologia sistemica internistica. Dico per fortuna perché è l'altra varietà che è la lesmaniosi viscerale molto molto più contenuta nella nostra provincia ma quella è anche un po' più pericolosa perché se la diagnosi viene ritardata o non effettuata e quindi la terapia inizia tardi può essere anche fatale. Ma l'incidenza soprattutto nelle nostre zone, nel nostro circondario o anche ai paesi vicini riguarda soprattutto la lesmaniosi cutanea. Ci sono ancora delle difficoltà nella diagnosi? Ma sì, ci sono delle difficoltà perché la diagnosi deve essere effettuata da un medico specialista perché difficilmente il medico anche di medicina generale riesce a fare la diagnosi, la può sospettare però ripeto ci sono delle caratteristiche così diverse da una forma o l'altra, anche la stessa lesmaniosi cutanea da un soggetto all'altro può avere delle caratteristiche cliniche diverse che rendono veramente difficile la diagnosi e che la diagnosi poi necessita non solo della clinica, del riconoscimento ma anche di indagini strumentali come la dermatoscopia che adesso si comincia a utilizzare anche nella diagnostica della lesmaniosi cutanea e soprattutto anche le tecniche più invasive come la biopsia o la ricerca della lesmania nelle cellule citologiche proprio. Dottore Erraso, a livello locale per ciò che concerne la medicina veterinaria come è organizzato il territorio? Allora, per quanto riguarda la lesmaniosi noi stiamo adottando un piano regionale, nel 2020 l'assessorato alla sanità ha emanato un piano di monitoraggio regionale della lesmaniosi e abbiamo iniziato a monitorare tutti i cani che sono ricoverati nei nostri canili. Dall'attività svolta abbiamo già un quadro più o meno chiaro di quello che sarà anche se il piano ancora non è terminato, finirà l'anno prossimo, ma devo dire che abbiamo un'incidenza, una prevalenza della malattia un po' alta rispetto alle altre province e ci attestiamo intorno al 20%, mentre la media regionale è intorno all'11%, quindi noi siamo molto alti come positività negli animali e suppongo che, come sicuramente avrà detto il dottore Vaniscalco, abbiamo anche dei casi un pochettino alti anche nell'uomo. Dottoressa Bruno, quanto sono importanti le attività di sorveglianza e controllo in questo ambito? Allora, i piani di monitoraggio e di sorveglianza sono necessari per fare un controllo di tutto quel sommerso di questa patologia. Quando si pensa alla lesmaniosi si pensa immediatamente all'idea di un iceberg. Quello che noi riusciamo a valutare è soltanto la punta di un iceberg. Esiste tutto un sommerso fatto da difficoltà diagnostiche, forme asintomatiche di patologia, sia in ambito anche umano ma canino. Esistono dei nuovi possibili serbatoi come i gatti, che stanno svolgendo un ruolo fondamentale nella trasmissione del patogeno. Quindi i piani di sorveglianza e di monitoraggio riescono a valutare quel sommerso importante e ci permettono di ottenere un quadro epidemiologico il più veritiero possibile. Dottore Castelli, per la prevenzione cosa si può fare? Allora, per la prevenzione, per la lesmania è importante effettuare degli approcci soprattutto contro il flebotomo, che è il determinante della patologia. Quindi opere di disinfestazione molto frequenti, soprattutto nei periodi più caldi. Quindi già siamo a maggio, quindi è questo il periodo in cui cominciano a schiudersi le uova e quindi diffondersi il flebotomo, che è il determinante. E poi ovviamente tenere sotto controllo gli animali domestici, in particolare il cane che è il serbatoio della malattia, con numerosi approcci diagnostici che in questa conferenza spiegheremo. Nuovi servizi PAC per anziani e famiglie di Sciacca e dei comuni del distretto sociosanitario di Sette, per un valore complessivo di 878 mila euro. Si tratta dei servizi di assistenza domiciliare agli anziani, di potenziamento degli asili nido comunali di Menfi e Sambuca e dell'erogazione di voucher per i micronidi di Montevago e Sciacca, servizi che saranno attivi dal prossimo mese di settembre. Un'attività dunque di programmazione che lasciamo alla nuova amministrazione, spiega ai nostri microfoni l'assessore alle politiche sociali, Gisella Mondino. Sentiamo. Il comitato dei sindaci del distretto sociosanitario di Sette, di cui è capofile il comune di Sciacca, ha deliberato le azioni di rafforzamento territoriale infanzi e anziani, per un valore complessivo di circa 878 mila euro. Le somme consentiranno la realizzazione di diversi servizi, come l'assistenza domiciliare alle persone anziane, il potenziamento di asili nido comunali a Menfi e Sambuca, o voucher per micronidi a Sciacca e Montevago, che ha spiegato ai nostri microfoni l'assessore alle politiche sociali, Gisella Mondino, partiranno dal prossimo mese di settembre. Un'attività dunque, tiene a sottolineare il vice sindaco e assessore, già programmata a beneficio dell'amministrazione che si insedierà a giugno. Si tratta di servizi che riguardano l'assistenza domiciliare per gli anziani, la cosiddetta ADI, il potenziamento del punto unico e ancora il rafforzamento di due asili nido comunali e l'eroversione di diversi voucher, sempre per quanto riguarda i servizi nido. Sono tutte azioni, in più, molto importanti, di cui il comune di Sciacca, in quanto capofila del distretto sociosanitario di Sette, si è fatto promotore. Sono dei servizi importantissimi. La programmazione di questi servizi, quindi la realizzazione dei progetti e l'approvazione di questi progetti consentirà nei prossimi anni, ancora una volta, al comune di Sciacca, insieme ai comuni del distretto, di poter garantire i servizi dell'asili all'assistenza anziani e diversi voucher per gli asili nido. Quindi una programmazione che dal prossimo settembre assicurerà questi servizi nel nostro territorio. È chiaro che le politiche sociali vanno progettate e programmate perché venga assicurato un servizio, la continuità di questo servizio nel tempo, è necessario programmare le com, assicurare finanziamenti. Questo si può fare soltanto se c'è un'adeguata programmazione, altrimenti sono solo slogan pubblicitati. Questo distretto con Sciacca, capofila e con questa amministrazione, al di là di un slogan, ha messo in campo veramente tante strategie di politiche sociali concrete sul territorio. Interessati poi come potranno usufruire di tali servizi? Ci saranno degli appositi bandi a cui partecipare? Sì, certo, verranno pubblicati degli avvisi e potranno partecipare in relazione anche al al licee e ad altre categorie che sono indicate nell'avviso stesso. Ma in questa fase ovviamente è di fondamentale importanza poter assicurare le donne per poter realizzare gli avvisi e avviare i servizi a partire dal prossimo settembre. Esempio di inciviltà a Timpi Russi, località balneare di Sciacca, rifiuti abbandonati la scorsa in una delle strade principali della zona. La mara scoperta è stata fatta questa mattina dai residenti. Non essendo rifiuti differenziati, gli operatori del servizio di raccolta hanno lasciato sul posto i sacchetti e il loro contenuto riversato in strada. Probabilmente, riferiscono i telespettatori indignati che si sono rivolte alla nostra emittente, qualcuno dopo una festicciola ha abbandonato lì rifiuti prodotti pensando che poi sarebbero stati ritirati. Così non è stato e sono stati gli stessi residenti che ci hanno contattato a sbracciarsi le maniche e guanti alla mano a liberare l'aria dei rifiuti. C'è dunque chi sporca e chi pulisce. Un esempio di inciviltà è stato cancellato dalla buona volontà e dal senso civico di altri cittadini. Prenderà il via lunedì 16 maggio il servizio di assistenza domiciliare per gli anziani residenti nel territorio di Cala Monaci. Il progetto è stato affidato alla cooperativa sociale La Sapienza che provvederà a fornire adeguati servizi di assistenza facendo sì che ognuno si senta integrato all'interno della comunità. Il progetto prevede momentaneamente la durata di tre mesi ma non si esclude la possibilità di un proseguo del servizio. Anche al reparto di cardiologia dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento da pochi giorni sono attivi dispositivi cardiaci che possono essere controllati da remoto. Grazie ad un dispositivo già consegnato ai primi 40 pazienti portatori di defibrillatori e pacemaker è adesso possibile un monitoraggio a distanza che consente la trasmissione dei dati direttamente alla cardiologia di Agrigento. Il nuovo sistema di rilevazione permette di tenere dunque sotto controllo i pazienti e contattarli immediatamente in caso di problemi rilevati dall'apparecchiatura. L'Assemblea regionale alle attività produttive ha definito le date dei saldi e delle vendite promozionali per il bienio 2022-2023. Ce ne occupiamo in questo servizio. Dopo due anni di pandemia si programmano in Sicilia le date dei saldi e delle vendite promozionali per il bienio 2022-2023. L'assessore regionale alle attività produttive ha firmato il decreto in base al quale i saldi invernali potranno essere effettuati dal 2 gennaio al 15 marzo, mentre quelli estivi sono in calendario dal 1 luglio al 15 settembre. Indicati anche i periodi per le vendite promozionali dal 16 marzo al 30 giugno e dal 16 settembre al 31 dicembre. Nessun particolare stravolgimento rispetto ad una tendenza ormai consolidata da anni e che ha portato ad anticipare sempre più l'inizio dei saldi, sia estivi sia invernali, per venire incontro ai consumatori ma anche ai commercianti e cercare di arginare anche così la crisi economica. Dopo il periodo acuto della pandemia che ha stravolto il calendario dell'ultimo bienio, ha dichiarato l'assessore regionale alle attività produttive Mimmo Turano, si torna alla programmazione che oltre ad essere prevista dalla legge è uno strumento fondamentale che permetta a commercianti e consumatori di potersi organizzare con congruo anticipo. Per l'assessore regionale alle attività produttive oltre alla programmazione è indispensabile che le istituzioni e le organizzazioni di settore maturino la capacità di analizzare adeguatamente i trend e di monitorare quei fattori che possono influire sul successo delle vendite promozionali e dei saldi. Il sindaco Pellegrino Spinelli continua a riservare particolare attenzione, specie in ambito sanitario, per i cittadini di Calamonaci. L'ultima sua iniziativa, del tutto personale e senza gravare sulle casse comunali, è stata quella dell'acquisto di un elettrocardiografo portatile con modalità telemedicina. L'apparecchiatura medica, previa convenzione con un ospedale, trasmetterà traccia ad un servizio di cardiologia con la quale verrà refertato l'esito da un medico cardiologo. La salute dei miei cittadini è quanto più mi sta a cuore. Con questa donazione, spiega Pino Spinelli, intendo offrire un ulteriore servizio alla comunità. Entro il mese di maggio saranno organizzate delle giornate di screening gratuite rivolte ai cittadini di Calamonaci. La ricerca in matematica e non solo è stato il tema affrontato questa mattina al liceo scientifico Enrico Fermi di Sciacca durante un incontro tra gli studenti e il professore Francesco Tulone, ricercatore universitario presso il Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università degli Studi di Palermo. Vediamo. L'importanza della matematica e il suo ruolo a supporto di tante altre discipline scientifiche non è stato il tema affrontato questa mattina al liceo scientifico Enrico Fermi di Sciacca durante un incontro tra gli studenti delle quarte e quinte classi dell'istituto ed il professore Francesco Tulone, ricercatore presso il Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università degli Studi di Palermo. Insieme a due colleghi, uno russo l'altro americano, il professore Tulone di recente ha trovato la soluzione ad un problema matematico che da vent'anni gli studiosi di tutto il mondo cercavano di risolvere. La matematica è un ragionamento, è un ragionamento logico-deduttivo, è una buona palestra per affrontare tutti i problemi della vita, per cui chi fa matematica deve sempre ricordare che non sono conti che bisogna fare, ma bisogna ragionare e sapere costruire in qualche maniera un processo che ti dice che da qualcosa con delle ipotesi ottieni una tesi. È una palestra di vita, per cui io dico sempre che con perseveranza, studiando tanto, credendo nelle proprie potenzialità, bisogna continuare a studiare matematica, cosa che è stata la mia passione, ma a studiare in generale, perché la nostra società si basa proprio sulla nostra crescita, sulla nostra conoscenza. Solo con la conoscenza e quindi con lo studio riusciamo ad avere il nostro posto nella società e a realizzare le proprie ambizioni. Io l'ho sempre considerata una disciplina molto importante, ma studiandola nel corso degli anni mi ha aiutato ancora di più a comprendere la sua importanza, perché è importante non solo per se stessa, non è una disciplina fine a se stessa, ma è molto importante per comprendere dei modelli che sono alla base del mondo di oggi, ad esempio dei modelli farmacologici che si rifanno alla data di scadenza di fari medicinali, anche modelli meteorologici o economici, ma anche alla base della vita di tutti i giorni, perché ponendosi di fronte a certi problemi con un ragionamento matematico si può affrontarli con una mentalità volta a risolvere ciò che ci si pone davanti. Quindi io la considero importante non solo in l'ambito scolastico, ma nell'ambito della vita. Anche l'incontro di oggi rientra nell'ambito delle iniziative che il liceo scientifico di Sciacca ha voluto dedicare ad Enrico Fermi, il grande fisico cui è intitolata la scuola. Abbiamo anche deciso di inserire un secondo momento, quindi quello della giornata di oggi, dedicato un po' alla matematica, alla ricerca, forse perché di matematica e di ricerca a volte si parla poco, forse perché la matematica spesso da alcuni nostri alunni viene vista come una materia un po' difficile, molto impegnativa e non tutti riescono a vedere subito l'importanza di questa disciplina. Una disciplina che ha una sua bellezza incredibile, che ha veramente un po' illuminato le menti di grandi scienziati, basti pensare ad alcuni fisici, che nel vedere la bellezza e la simmetria di alcune equazioni matematiche hanno pensato che a tutto ciò corrispondesse qualcosa in natura, in realtà il loro intuito poi non li ha mai traditi. Una disciplina che ha un formalismo così particolare in grado di descrivere la realtà che noi viviamo, una disciplina che dà supporto a tantissime altre discipline, basti pensare alla fisica e non solo, perché la fisica è la prima materia a cui pensiamo noi, a cui pensano i nostri alunni, perché vedono proprio questa connessione estrema continua tutti i giorni, ma basti pensare alla medicina, alla farmacologia, alla biologia, alla meteorologia, insomma tutte quelle branche del sapere, la chimica, ecco dimenticavo la chimica e tante altre, ecco, tutte quelle branche del sapere che senza la matematica non possono pervenire a nuovi risultati. L'intento era questo e poi dare anche un po' la possibilità ai nostri alunni di avere un contatto con un matematico che ha, insomma, di fama, abbiamo avuto tutti i modi di sapere qual è stato l'ultimo teorema che ha dimostrato e capire anche un po' come funziona la ricerca in ambito universitario. Tra gli argomenti al centro della discussione anche gli ostacoli che ancora continuano ad impedire l'affermazione delle donne ai massimi livelli della carriera accademica nel mondo scientifico. Potrebbe essere il pregiudizio, gli stereotipi che si sono andati formando durante il corso degli anni che però con ottimismo posso affermare che stanno iniziando per fortuna a scemare. Allora ecco, io penso che l'ostacolo, tra virgolette, principale sia questo il pregiudizio che può essere dato magari dalle scelte che le donne possono intraprendere nel corso della loro vita, della loro carriera e che mi auguro vengano abbattuti del tutto perché parte tutto dalla nostra mente. Allora se già il pensiero inizia a cambiare poi cambia anche la realtà. L'edizione 2022 di Giovani in Festa si terrà il prossimo 2 giugno a Favara. Il servizio diocesano di pastorale giovanile del Centro per l'Evangelizzazione della Comunità Ecclesiale di Raffadali è pronto ad accogliere i giovani dell'Arcidiocesi di Agrigento per la manifestazione annuale per vivere una giornata all'insegna della bellezza. Quindicesima edizione del Descosicano domani all'Istituto Superiore Calogero Amato Vetrano di Sciacca, concorso che premia il talento degli studenti della scuola, in particolare dell'indirizzo alberghiero. Domani mattina si inizierà alle 8.45 con una gara di cucina e si proseguirà alle 12 con la presentazione dei piatti alle 13.30 con la premiazione. A giudicare le pietanze e i cocktail saranno degli esperti qualificati in questi campi. Presidente della giuria per la gara di cucina, lo chef a Cursio Craparo, mentre a presenziare la giuria per la gara bar sarà Gianfranco Sciacca. Adesso spazio alla rubrica Il libro del giorno. Anno Domini 807, foce del fiume Po. In seguito ad una violenta tempesta, le legune di Comaclum restituiscono un antico sarcofago di piombo che costudisce il corpo incorrotto di una fanciulla. Un miracolo, secondo il vescovo Vitale. Un cattivo presagio, invece, per l'abbate Smaragdo, che si troverà diviso tra l'obbligo morale di svelare il mistero e la necessità di proteggere un segreto legato alla sua famiglia. Marcello Simoni torna con un medioevo lagunare pieno di enigmi che possono cambiare la storia. Trascorribande di armigeri longobardi, alleanze e vendette, antiche maledizioni e molto coraggio. Le sorti dell'impero si stanno per decidere. La Dama delle Lagune di Marcello Simoni, edito La nave di Teseo. Siamo allo sport, alla scherma sulle pedane del centro Rovigo Fiere. Si è svolta la prima giornata della Coppa Italia Cadetti e Giovani, dove erano in palio gli ultimi pass validi per i campionati italiani Under-17 e Under-20, che si svolgeranno a Catania a fine maggio. Il Lassacenze Giuseppe Marciante, tesserato con il circolo schermistico Mazzarese del maestro Giuseppe Pugliese, è riuscito a qualificarsi. Dopo gli ottimi parziali nel girone e le vittorie nelle eliminatorie, si è fermato il tabellone degli otto per una sola stoccata. Rimane lo splendido risultato del decimo posto su 91 partecipanti, che gli consente di raggiungere i migliori schermitori al campionato italiano di Catania, l'unico siciliano qualificato della gara. Giuseppe Marcianti è davanti a un altro fine settimana impegnativo, che lo vedrà protagonista ad Ancona il prossimo 6 maggio per la Coppa Italia Assoluti. Era l'ultima notizia, siamo in chiusura. Vi ringrazio per averci seguito e vi do l'appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.